Infatti mi aspetto una squadra molto motivata, però anche noi siamo molto motivati di vincere questa partita. Penso che stiamo giocando sempre meglio, però non abbiamo ancora dimostrato in una partita intera il nostro livello e quindi non vedo l'ora di far vedere dove possiamo arrivare. Sì, assolutamente, hanno tanta qualità, sia le giocatrici, anche lo staff che ha appena cambiato il nuovo coach, con tanta qualità, quindi dobbiamo essere pronti per domenica.